Non li collezionava, ma ovviamente li acquistava all'ingrosso per poi venderli. Abbiamo anche un bilaccino elettronico di precisione, che gli serviva a pesare le stecche. Ma oltre a questo, di pregio, il sequestro è quello degli ovuli. Sono 218 ovuli, ogni ovulo pesa 10 grammi, quindi sono circa 2,2 kg di ovuli, e di tipo molto più pregiato, il burbuca. Mentre una stecca costa 50 euro, un ovulo dello stesso peso, 10 grammi, costa 200 euro. Quindi gli assuntori che cercano roba sciccosa e di pregio, gradiscono questo tipo di acici, perché è ricco di principi attivi, molto più ricco, non meno liberato.